E' meglio che chiudo questa porta. Che schifo. Eh, il pulsante sinistra e il mouse. Io me ne sarei già andata via, non sai lì? Cosa chiudi? E che ne so? E poi arriva qualcuno? Ah, me lo su, me lo vede. Salta, salta, via. Eh, sai che culo, si è andato un tubo. Vabbè, pazienta, lì che vuoi che ci sia. Oh, mamma. Chi era? Ah, non lo so, adesso andiamo a vedere. Non è che arriva da qua? C'è un buco lì. No, vabbè, di lì. Devo vedere al buio. Oh, no, lì non c'è niente. Ragni, che schifo. Eh, c'è niente, fa schifo al cazzo sta qua. Chi è che la teneva pulita? Ma che arriva di qua, eh? Ma che schifo. Ah, che schifo. Ehm, sta signora proprio i linee seta non li ha mai usati, eh? Dai, che schifo che esce, mamma mia. Oppala, magari qua c'è qualcosa per noi. Andiamo. Una Coca-Cola, poi, soprattutto. No, non è Coca-Cola, non fare pubblicità, che non mi pagano. Certo. Che schifo, vai via da lì. Eh, vai via, volevo vedere se potevo... Vai via, ne l'ho condotto di nuovo. Va bene. Adesso voglio vedere se rientra. Se rientra è una cazzata. No, non è una cazzata. Va bene. Qua, qua, cosa c'è? Ah, è dove ero prima. Eh, col cazzo che metto la testa fuori di qua. Io ci arrivo a qualcuno scappo. Che cosa ho fatto? Non c'è nessuno. Eh, basta, non si male però, caspita. Eh, non so mica io. È lui che... Perché è tutto chiuso? Eh, perché c'abbiano il culo, abbiamo fatto... No, aspetta, forse abbiamo... Vai indietro di nuovo. Eh, no, non c'è altro. Nel senso contrario, vattene fuori dal suo castello, che schifo. Eh, mi piacerebbe, è appena iniziato il gioco, dove vuoi che vado. Io l'avrei già finito. Eh, tu, tu sì. C'è la scarpiera, tipo scarpiera, vedi che puoi prenderla da tira. Ma vai a cagare, te la scarpiera. E poi c'è lei con la scarpiera. Ti dà tutta sta sicurezza alla scarpiera. E poi dove la vedi la scarpiera? Lì, c'era un mobiletto dietro. Non è un mobiletto, non è una scarpiera. Vabbè, non è una scarpiera, però... La scarpiera. ...teppucci dentro. Poi mio, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse, ok. Che... no! Ah, che schifo! Che schifo, il risultamento. Vabbè, è morto, poverino. Ma no, non era morto. Era lui che gli sanguinava il culo, guarda. Ma ti è venuto addosso, che era morto. No, no, è morto, è morto, guarda. Ma che schifo! Se ti senti come la musica... Dai, dai, mi è caduto anche l'ho riuscita a dare! Sì, non va a rire tu, è solo lui che è morto, lascia stare. Guarda, un altro morto, un altro qua. Dai, che schifo! Sì, 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 è morto, è morto. Dai, vai via da lì! Eh, dammi, un attimo! Se ne arriva un altro me ne scappo, eh. Ma va... Che schifo. No! Che parla adesso? Oh, mamma mia! Beh, spegniamo così risparmiamo batterie. No, è bruttissimo, Tati, vai via da lì. Così non lo vedi. Ma poverino! Ma che schifo, che poverino! Ah, niente, ci sono dei mutanti. Sì, vabbè, ho capito, vai via però. Ci sono dei... No, aspetta, ti spiego, ci sono dei mutanti e non li possiamo battere, dobbiamo scappare. Mi stavate già fuggita all'ultimo il viso. Perché ti stai chiudendo gli occhi? Perché fa schifo. È morto! Vabbè, ma vai... Che schifo, che va, mamma mia. C'è le mosche, guarda. Ma che schifo! Vabbè, oh, non vedo niente. Ah, ok. Porca... Aspetta, aspetta. Non mi sto guardando addosso, troppo vuole. Se arriva qualcun altro vedi, eh. Ma cosa... Io, è colpa mia! Hai detto che era un gioco tranquillo. Ma sì, più o meno, non è che... Non si è visto ancora niente. Che va, andi muoto! Sì, in pratica, quello che gli sanguinava al culo che ha dei problemi enormi, ha delle emorroidi grosse come meloni. Mi sta venendo l'ansia. No, dai, non ti fa venire l'ansia. Ah, di nuovo il cesso! No, non dai, che si era già chiuso prima. È proprio buio, niente. Non c'è niente da fare. Ma no, che schifo! C'è una mano nel cesso! Ma come fossi... Cos'è? Una batteria? Stavolta la tengo. Diamogli la mano. Gli diamo una mano. No, è che schifo! Mai fare gli idraulici in questi giochi. Vabbè, ok. Signor, sono venuto a giustare l'arcesso! Ti vedi l'arcesso, grazie. Ok, ok, me ne vado. Ok, adesso siamo al buio. Noi siamo al buio e lui non ci vedrà mai. Stiamo qui finché non finisce il gioco. Posso respirare un attimo, grazie. Sì, sì, puoi, puoi. Dai, ma non tardi lì. Eh, devo vedere! Metti che ci sono delle cose da prendere. Quindi la scrivania lanciare. Non penso si possa, perché non è così forte, è un cagone questo. Non mi piace se. Se sei felice, tu lo sai battire le mani. No, niente. Oh, però... Perché devi andare nelle porte sempre chiuse? È colpa mia! E che ne so se sono chiuse? Perché devi sparancarle sempre, cosa vai? Non deve essere giù qualcuno, ne vedi, eh? Ah, non c'è nulla. Ah, ok. Non lo posso guardare. Ma porca miseria! Ah, mamma! Porcellino! Perché porcellino? Dai! Che schifo! No, siamo... Ci ha buttati giù dal primo piano. Siamo un po' morti, tipo. Abbiamo sbagliato qualcosa. No! No, questo è normale. Zio Fester. Ah, mamma! Oh, zio Fester o Berlusconi che ha perso i capelli. Dai! Era tanto per ridere. Ci siamo ammazzati. Mamma mia, che brutto che è, mamma. Che schifo! Abbi cura di te, figliuolo. Cazzo, mi hai fatto buttare giù da un primo piano. Avevi solo da lasciarmi tranquillo. Sì, ma che schifo. Oh, cazzo! Ah, allora siamo ancora venivi. Ma non eri morto? Ah, che schifo! Io non moro più, eh. Ma allora puoi mettere questo orecchio qua, che così siamo giusti, no, eh? No, io ci vuole un genio, ci vuole. Sono più comodo nell'altro sentire, non questo. Succede un altro morto. È morto, è morto, stai tranquilla. Gli diamo un pugnetto? No, dai, vai via da lì. No, devi darmi il tempo, eh. Se non ti do il tempo, vai, di corto allo stesso. Adesso ti chiamo al cellulare. E voglio dire, diciamo tutti il tuo numero di telefono, così potete chiamare Lilith a qualsiasi ora, lei tanto, voglio dire, risponde a tutte le vostre domande. Non capisco perché è arrivato quel tipo lì e poi dopo mi ha lasciato andare. Mia, quantina ha perso, mamma mia, che schifo. Eh, guarda che questi qua sono come quei nei film di Quentin Tarantino. 18 litri di sangue se ti tagli un dito, se ti fanno male è peggio. Questo? Cos'ha nel culo? Sì, vabbè, non importa, cosa c'ha, vai via. Guarda! Ma dai! Ho un petro piantato nel culo. Ma che schifo! Guarda, farì. Non mi riferete, schifo! Dai, il petro piantato nel culo è diventante. Dai, che schifo! Va bene, niente, niente, niente il vetro piantato nel culo. No, mamma mia, che schifo! Questa è una posizione surreale. Ho visto qualcosa muoversi. Io non voglio guardare. Eh no, devi, eh. Guarda che ti sta riprendendo. Mi non guarda. Dai, fai finta che sia un film horror. Sì, vabbè, ma non pensavo. No, già la batteria scarica! Ecco, appunto. No, il buio no! Eh, eh, come facciamo? Sono senza batteria. Io odio il buio. Io odio il buio. Ti ho detto che sembravi un puffo. Allora, aspetta. Dai, adesso usciamo. No. No. Non usciremo. Non così facilmente, vabbè. C'è tipo un allarme. Magari c'è il modo per disattivarlo, come ci ha detto all'inizio. Ma invece di andare sempre dove ci sono i morti, non puoi scappartene dall'altra parte. Non c'è altra maniera, non posso fare altrimenti. Corri via? Dove? Fuori, lanciati dalla finestra. Non si può. Ma certo che si vede che non giochi mai un cazzo. Nei giochi di questo genere tu devi andare in posti peggiori. Ma non mi interessa, io sarei già fuggita, strafuggita. No, tu avevi già spento il bici, uscivi di casa, che nel vero senso. Inchia! Che schifo! E questo si è cagato forte. Di solito appena fai così... Dai! Dai! Non c'è qualcosa tipo un ascia? No, eh? Piegli agli scatolali, gli rilanci... Non c'è via la scarpiera! Aspetta, zitta, zitta, che qua è un momento utopico. Oh no. Cosa fa? Ah, gli ho messo le batterie nuove, adesso possiamo di nuovo... Uno in carrozzina. Cosa c'è per te? Stai buona, ma si muove? Sì. Oh! Bisogna muoverci piano. Piano. Fa rumore. Che piano? Shhh! Mi sa che c'è la scarpiera di uomo. Mi fai prendere la scarpiera e gliela la tiri in testa, eh? Se lo fai là, bravo. Ma la, 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 senti, senti già lui come si sta prendendo malissimo. Ok, adesso cerchiamo di vederlo da vicino. Secondo me, ma che... No, mamma mia, che schifo! Vabbè, scusa, poverino, è pelato, ce l'hai con i pelati adesso. No, si vede tutta la spina dorsale. È magro. Ma non mi importa. Ecco bello. Stai andando davanti però, porco cane, mi fa venire là, non sa solo sentirti, eh. Da 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 Grazie per la visione!